Buongiorno da una Eli che è una svegliona perché è da mezz'ora che sta registrando il video e si è accorta che non aveva acceso la telecamera. Grande Eli! Iniziamo subito, cercherò di ripetere tutto quello che ho detto prima. Voi pensavate di vedere un video sul DM? No ragazzi, no, perché non sono andata al DM. Perché ci sono state delle piccole complicazioni di tempo che non mi hanno permesso di fare questa operazione con la mia amicalella in tutta tranquillità. Per fare shopping ci vuole tempo, ci vuole dedizione e sarei dovuta ritornare troppo presto e quindi abbiamo deciso di posticipare questa uscita. Anche perché è stato chiamato Mattia per un piccolo intervento che aveva già in programma da un anno, finalmente l'hanno chiamato, l'hanno chiamato martedì sera, quindi giovedì si è ricoverato e ieri è tornato a casa. Tutto bene, sta bene, nulla di preoccupante, però oggi mi spiaceva lasciarlo a casa da solo, nel senso che Lucia non c'è, Paolo non c'è e io sono qui che giro i video con voi e per voi. Ma sono andata da Action perché Lucia l'altro giorno mi ha detto che aveva bisogno di comprare dei regali per delle sue compagnie, amiche e mi ha chiesto se la portavo. Allora, avevamo un po' di tempo ieri pomeriggio, ci siamo andate, siamo state velocissime, abbiamo cronometrato l'entrata da Action, 32 minuti, abbiamo preso tutto quello che ci serviva e anche quello che non ci serviva e adesso così per una bella chiacchierata pomeridiana ve li mostro in tutta semplicità. Iniziamo subito, prima qualcosa per la casa che queste mi servivano veramente, le altre cose soprassediamo. Ho comprato una spazzola per i panni perché ne avevo tre, non ne ho più neanche una, non so dove siano andate, non so chi le abbia prese, sono sparite e io avevo bisogno per le macchie sulle magliette. Quando ho delle macchie sulle magliette che voglio pretrattare, la quarta volta che lo ripeto, ho bisogno comunque della spazzola e quindi ne ho presa una. I prezzi sono sempre molto bassi, questo mi pare che era al di sotto dell'euro e quindi me la sono portata a casa. Poi, sempre cose utili, un bel pacchetto di fazzoletti perché con le allergie, i raffreddori e tutto quanto servono sempre. Poi, li avevo già messi giù nel video precedentemente registrato, mi abbasso e li prendo. Dei contenitori, ce ne sono tantissimi e bellissimi di tutte le misure da Action. Adesso lo ritiriamo fuori, eccolo qua, di questa altezza perché questi mi servono per mettere dentro i profumi e i prodotti che sto testando, provando, insomma, quando gioco a fare la profumiera e quindi entro nella mia camera hobby, se no, di solito ce li ho tutti sul tavolo. Ma, ma ultimamente, quando entra il gatto, io non mi accorgo cosa fa, lui vede tutte queste belle boccettine. Lui, lei, io sono ancora ferma al mio gatto precedente, invece questa è una femmina. Lei vede tutte queste boccettine luccicanti e gli piacciono tantissimo, quindi con la zampetta, pam, 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 me le butta giù. Per fortuna, me le butta sul tavolo, perché se dovessi trovarne qualcuna rotta sul pavimento, potrei strangolare la mia menu. E quindi ho detto no, e le facciamo così. Prendiamo dei contenitori, ci mettiamo dentro quello che tu devi provare, testare, queste cose qua, così la gatta può circolare abbastanza liberamente nella mia camera hobby. E quindi ne ho presi tre. Questi costavano 0,86 centesimi, me lo ricordo bene perché ho riguardato tre volte il prezzo. Ora veniamo alle cose un po' più succosine. Questo l'ha preso Lucia per la sua compagna, ma piace tantissimo anche a me e non è detto che io non me lo ricompri. Guardate che carino, è un block notes, molto 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 carino, che ha allegato un pennarello cancellabile e le pagine interne sono plasticate come le lavagnette dove scrivevamo quando eravamo piccoli noi. Ecco, quindi la sua amica potrà scrivere, disegnare, cancellare, non lasciare traccia di quello che scrive. Mi piace tantissimo. E sono tutte così, una pagina è bianca e l'altra pagina è a reghe. Mi piace un sacco. E quindi prima di ridarlo a Lucia ve l'ho fatto vedere. Poi, continuiamo, continuiamo. Per questi due articoli devo dare la colpa, aspettate che tiro fuori anche l'altro, alla mia amica Antonella del canale Fare e Disfare. Lei, in un video, forse anche in uno short, aveva fatto vedere queste meravigliose miniature che aveva trovato. Non propriamente queste, però una serie di miniature che ha comprato e che poi aveva costruito. E mi sono piaciute tantissimo. Le uniche disponibili erano queste due al momento, ma ho chiesto alla commessa e mi ha detto che ne arriveranno tante altre. Ice Cream Miniature, il negozio del gelato. No, ma guardate voi che meraviglia. A me piace un sacco giocare con queste cose. E per rilassarsi, secondo me, questo è il modo migliore, cioè creare. E questo è bellissimo. C'è la bicicletta, ci sono i tavolini. No, ma guardate che belli. È stupendo. E poi, mettiamolo qua sotto, ho preso il negozio Green Grocer. Il negozio di verdure, il fruttivendolo. Non saprei, ma guardate che meraviglia. Grazie, Anto, per avermi fatto scoprire queste cose meravigliose. C'è dentro la bilancia, ci sono i pomodori, le carote, i cavoli. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi quando le avrò costruite, ve le farò vedere. Queste costavano 9,90, mi ricordo. Poi, cosa ho preso? Vabbè, sempre per la casa, lo sapete che questi, quando sono giù, li prendo sempre, perché hanno delle profumazioni buonissime. Sono adatti anche al profumatore, quello della Glade, che io non mi ricordo mai, la marca. Comunque hanno l'attacco che è molto simile, e se non è simile io ho tenuto via quello originale, quindi lo metto dentro e funziona. E hanno delle profumazioni veramente molto molto buone. a me piacciono molto di più delle profumazioni originali. Questo è... Eh, ciao, chi è che ci vede? Non saprei. Ha i fiori floral e bronze. Mentre questo è alla mela verde. E chi, come me, è una ragazza degli anni 70, lo shampoo clear alla mela verde era il must, per quel periodo. Ho anche trovato un profumo che ci assomiglia, ma ve lo farò vedere più avanti. Più avanti nei prossimi video. E quindi ho preso anche questo. Poi. Poi, 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 poi. Qui ci sono tutte le influenze delle... Influenze e non malattie. Delle amiche che fanno i video. E visto da Ilenia, spero sempre di ricordarmi il nome perché è comunque il canale Le Perle Gafne, proprio ieri ho visto il suo video, uno scrub. Questo non lo apro perché sarà un regalo. con i sali. Lei ha detto che ha un profumo molto fresco. Mi piaceva tantissimo il colore. E siccome ho anche io tante amiche che nel mese di aprile compiono gli anni, questo, secondo me, potrebbe essere un regalo indovinato per una mia amica. Ma poi ve lo farò sapere. Poi, sempre, come regalino da fare Lucia a una sua amica, ha preso questo Lip Balm, che è carinissimo. C'era di due colori, ma sono troppo carini. E vi devo dire che la maggior parte dei prodotti che ci sono di make-up e di beauty, di skin care, sono tutti vegani. E io mi sono sempre trovata benissimo, nonostante i prezzi siano veramente molto, molto bassi. Poi, sempre Lucia, si è voluta prendere il Bath & Shower Gel alla Coca-Cola della Chupa Chups. C'erano due fragranze. Una era alla fragola. Mentre avete in mente il Chupa Chupa, quella alla vaniglia, la fragola, però la Coca-Cola è molto più buona. Quindi ha ascoltato la sua mamma e si è comprata questo. Anzi, questo ce lo sentiamo, tanto... Oh, mamma! Mua! Il Chupa Chupa alla Coca-Cola, ragazzi! Fantastico! Peccato che è di Lucia. Poi, potevamo lasciare via il nostro codino e abbiamo comprato questi premietti per quando abbaia alla nostra vicina di casa. Se potesse sbranarla, la sbrana, perché gli è arrivata una volta una scopata sulla testa nel mio cortile, però. Ok. E quindi lui da quel giorno lì non c'è verso. E allora, quando abbaia, adesso lo facciamo rientrare e gli diamo il premietto. poi ho preso uno shampoo secco. C'era due shampoo per capelli colorati. Uno per il biondo e l'altro per i capelli scuri. Quello biondo non l'ho preso perché avendo io adesso i capelli grigi, più o meno, non volevo che poi mi colorasse di giallo i capelli. E quindi ho preso uno shampoo secco ideale per tutti i capelli. non lascia residui bianchi siccome li avevo finiti tutti, ma poi vi dirò com'è questo shampoo. C'è scritto anche che volumizza il capello una volta che si è spazzolato. Poi ho preso uno spray per il viso. Io sono amante di queste cose e ho provato a prenderlo. Vediamo se c'è scritto qualcosa che riesco a leggere. Che cosa dice? Spray d'acqua rinfresca il viso e il corpo indicato anche per fissare il trucco. Ok. Lo proveremo e poi vi saprò dire 2 euro e qualche cosa. Poi ho preso delle maschere che anche qui dovrà utilizzare Lucia o poi magari le regalerò anch'io. Sono maschere coreane e sono buonissime io le ho già provate sono veramente molto molto buone. Questa è al mirtillo e estratti di yogurt molto carina 0 69 o 089 non mi ricordo. Questa è con olio di mandorle. Queste maschere non le ho mai provate ma le ho prese perché Ilenia sempre le consigliava e sono in idrogel ne ho presi due e sono maschere divise in due parti vedete e anche qua poi vi saprò dire e poi un'ultima maschera con l'estratto di sempre non mi ricordo mai i pongranade è il melograno eccola qua e qui vedremo a chi andranno poi 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 ho preso un shower scrub alla vitamina C adesso arriva l'estate cioè arriva la primavera poi arriverà l'estate quindi abbiamo bisogno di sfogliare illuminare e quindi ben vengano questi prodotti sempre al di sotto dei due euro se non ricordo male poi erano in offerta questi deodoranti quindi ne ho preso uno Fresh Energy della Nivea con il quale io mi trovo benissimo perché ho già provato anche le altre fragranze sono veramente durata 48 ore ripeto come sempre che però bisogna lavarsi e non solo profumarsi poi ho preso sempre per colpa di le perle di Daphne questo peeling face mask che se non ho capito male dovrebbe essere un tubetto che uno poi si mette sul viso e si fa uno scrub e infine infine dei prodotti per capelli allora questo è cheratina liquida da spruzzarsi sui capelli adesso sono in fissa con i capelli e quindi sto comprando un sacco di prodotti che uso eh non è che non uso però vediamo non l'ho mai provata la cheratina poi un prodotto sempre spray anticrespo che favorisce la pettinabilità e rende i capelli lucenti allora io questo l'ho comprato non tanto per me perché io i capelli non ce li ho crespi però Lucia ha i riccioloni e si asciuga malissimo i capelli quindi sinceramente questo lo volevo dare a lei e poi uno spray nutriente sempre per i capelli all'olio di Argan del Marocco e questo l'ho preso per me perché avendo il capello decolorato anche se io ho il capello grasso comunque le punte rimangono sempre un po' secche un po' e questa è la presa Lucia sempre per regalare una maschera all'alga idratante face mask ecco qua mi pare di aver finito ah no 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 non ho finito c'erano tutti i profumi di Gloria Vanderbilt che è una delle mie donne che hanno creato profumi non so se era una stilista non mi ricordo più io ne ho usati in gioventù tantissimi il classico Gloria Vanderbilt e poi mi sono comprata negli anni anche gli altri questo che è Miss Vanderbilt è un profumo adesso lo spruzziamo così velocissimamente c'era il tester e quindi l'ho sentito l'ho pagato al 4,50 euro 5,50 erano scontati è un profumo così molto velocemente fruttato agrumato ma con noce moscata cardamomo quindi un fresco ma non troppo fresco ma ancora abbastanza rotondo che secondo me è perfetto per la stagione della primavera e poi io ho un debole per Gloria Vanderbilt come ho un debole per Elizabeth Arden voi lo sapete dovrò farvi anche il video sui profumi di Elizabeth Arden perché ne ho veramente tantissimi ebbene adesso ho veramente finito e se riesco giro qualche altro video vi ringrazio per la compagnia spero di avervi fatto un pochino di compagnia anch'io ci riaggiorniamo prossimamente con un nuovo video e vi auguro un buon fine settimana ciao a tutti grazie